Questi sono i contenitori che userò per filtrare il kefir. Il pastino è in plastica e questo è il kefir che è stato 24 ore in fermentazione. Vedete i grani sono venuti su e si sta staccando il siero piano piano. Vedete questo è il momento giusto di filtrare. Potrebbe stare anche di più, fino a 48 ore però poi diventa più acidulo quindi io preferisco filtrare 24 ore. Giro con un cucchiaio di plastica naturalmente che riutilizzo sempre lavato con acqua calda. Niente detersivi mi raccomando e vado a versare nel colino. Ecco qua questo barattolo ora lo lavo con l'acqua calda bollente e lo asciugo e filtro in questo modo. Vedete il kefir sta colando sotto. Giro con il cucchiaio fino a che non rimangono i grani puliti. Il kefir è un probiotico ricco di vitamine del gruppo B, B12, acido folico, vitamina K2, calcio, magnesio, fosforo, amminoacidi. Inoltre possiede un'attività antimicrobica. Queste notizie le sto prendendo dal sito Kefir Italia ed ha un bassissimo contenuto di lattosio per questo che è tollerato ed apprezzato dalle persone intolleranti. bene ecco qua i miei i miei grani di kefir vedete quelli piccoli poi man mano cresceranno ogni giorno aumentano di peso e di volume questi sono i più i più vecchi che si sono agglomerati. ecco qua come avete visto non li strapazzo quindi li ho girati con il cucchiaio senza stringerli senza fare niente questo questo è il kefir che ne ho tirato fuori che deciderò poi se berlo così oppure se passarlo stringerlo un pochino oppure se farci dolci formaggio crema di kefir e altre cose. bene il barattolo l'ho pulito ed ora vado tolgo la tara li vado a inserire nel barattolo e ci metto il latte da 1 a 10 e la dose va da 1 a 5 fino a 1 a 10 io mi tengo un po' sotto il 10 lo rimetto in fermentazione per 24 ore. qui ora ne scolo un pochino ne filtro un pochino scusate sempre con un panno pulito lavato soltanto con acqua perché c'è a chi piace un pochino più denso lo yogurt quindi vi faccio vedere come certo così è completo di tutti i suoi elementi però se vogliamo togliamo un po' di siero quindi lo mettiamo a colare naturalmente poi il siero lo usiamo perché è pieno di sostanze nutritive quindi non lo buttiamo ci possiamo fare la ricotta al formaggio ad esempio oppure usarlo in cucina quindi ecco un pochino lo filtro ci si può fare anche la crema spalmabile. spalmabile ok spero di avervi convinto se volete andate sul sito kefir italia a leggere tutte le proprietà benefiche che questo kefir contiene ciao a tutti ci vediamo al prossimo video